Illi, cioè Ella, ovvero la Schlein, così come è solito chiamare il segretario del PD, Salvatore Merlo, dalle colonne del Foglio, è stata ieri a Taranto per prendere parte alla festa dell'Unità. Il segretario del PD ha mantenuto fede al proprio canovaccio, cioè quello di dire tanto senza dire nulla alla fine. Oltre al solito stereotipato inflazionato intervento sulla decarbonizzazione dell'ex Silva non è saputa andare, eppure i temi che poteva trattare da segretario del maggior partito della sinistra italiana sarebbero stati tanti, dalla questione legata ai trasporti e notizia dell'altro ieri della cancellazione del volo da Brindisi a Roma, ai trasporti in senso generale. Taranto da diversi mesi ormai non vede più passare un frecciarossa dalla propria stazione ferroviaria. O anche questioni legati all'autonomia universitaria, all'hotspot. Taranto ospita un hotspot che diventa strategico e fondamentale per tutto quello che sta avvenendo alle porte di casa nostra, a Lampedusa e nel Mediterraneo. Altro aspetto, l'autonomia differenziata, il proposito di questo governo di minare l'unità del paese. Ci saremo aspettati, ripetiamo, dal segretario del partito più rappresentativo della sinistra, del progressismo italiano, che fornisse qualche indicazione in più. Invece Elly, ovvero Illy, cioè Lashlein, dice tanto per non dire nulla alla fine, così come ormai abbiamo tutti quanti incominciato a comprendere da quando lei è salita sulla scena della politica italiana.